Oltre 100 ultraindagati, decine di perquisizioni e sequestri a Bergamo e provincia, è il bilancio di un'indagine della polizia relativa ad alcuni episodi di violenza che hanno visto per protagonisti diversi tifosi dell'Atalanta tra settembre 2009 e agosto 2010. Tra gli indagati anche l'assessore regionale al territorio e leghista Daniele Belotti, ritenuto l'anello di congiunzione tra le istituzioni e la tifoseria. All'esponente del Carroccio è stato contestato il concorso in associazione per delinquere, accusa che però il giudice per le indagini preliminari per ora ha bocciato. Dal canto suo Belotti si dice assolutamente tranquillo, il mio ruolo di mediazione tra le istituzioni e la tifoseria è noto da almeno 20 anni, continua l'assessore. Di certo non possono attribuirmi atti violenti ai quali non ho mai partecipato. La mia è sempre stata un'opera di mediazione, in cui ho sempre messo la faccia. Questa mattina l'abitazione di Belotti è stata perquisita, così come le case degli altri indagati. All'assessore sono stati sequestrati due computer. In totale sono 104 gli indagati per vari reati, rissa ad un'ata sediziosa, lesioni. L'inchiesta si è conclusa questa notte con 35 perquisizioni. In azione 80 agenti della Polizia della Questura e del Reparto Prevenzione Crimini della Lombardia. Nelle case degli Ultra sono stati sequestrati anche sfollagente, mazze da baseball, penne spararazzi, fumogeni, torce e diverse cinture con bulloni molto grandi. Dopo un anno e mezzo di indagini, al leader della Curva Atalantina, Claudio Galimberti, 37 anni, detto il boccia, è stato imposto il divieto di dimora a Bergamo e provincia. Altri due Ultradi, 23 e 25 anni, sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione tre volte alla settimana presso le forze dell'ordine. Secondo l'accusa, il bocce compagni avrebbero organizzato gli scontri in occasioni delle partite dell'Atalanta, ciascuno con specifici ruoli e compiti, di cui l'ipotesi accusatoria dell'Associazione per delinquere. L'inchiesta è stata condotta anche tramite il ricorso alle intercettazioni telefoniche.